Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarrì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. Egli disse loro, andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Leggiamo oggi la seconda parte della giornata di Cafarnao, una giornata tipo di Gesù che inaugura è il Vangelo di Marco. Dopo essere stato, è un sabato però, non è proprio una giornata qualunque, è il sabato, lo shabbat. Dopo essere stato nella sinagoga e aver liberato l'indemoniato, Gesù oggi va a casa, nella casa dove abitava, che è la casa di Pietro. Chi è stato a Cafarnao non può non ricordare la bellissima esperienza di vedere la casa di Pietro. Cioè, chiaramente rimangono delle fondazioni, rimangono dei brandelli di muro, però l'area su cui solgeva la casa, la porta da cui si accedeva, entrano. Entrano a casa e a casa la suocera di Pietro sta male. E c'è questo brevissimo, nella narrazione, incontro, ma molto significativo, in cui si dice che appena arrivati a casa, se c'è qualcuno che sta male, è normale dire, ecco, c'è qualcuno che sta male. E Gesù viene portato dalla malata, si avvicina. Sentite le parole di Marco, si avvicinò, la fece alzare, prendendola per mano. Ecco, Gesù si avvicina, perché Gesù è vicino. Poi, anche nel proseguo, nella sera piena di ammalati, di indemoniati, cioè di malattie fisiche, psichiche e morali, ecco, Gesù si avvicina, non sta fuori, non sta lontano dal dolore, dalla sofferenza. La prende per mano. Una cosa che noi non possiamo più fare e di cui sentiamo tanto la mancanza, il fatto di toccare. Certo, poteva liberarla anche solo con la sua parola, ma Marco sottolinea questo prenderla per mano. Gesù ci prende per mano, specialmente nei momenti difficili, nei momenti di sofferenza e di fatica. Gesù ci prende, ci tocca. Non è un Dio lontano, è il Dio che si è fatto carne, che entra nella nostra storia e poi la fece alzare. Letteralmente è lo stesso verbo della resurrezione, potremmo anche tradurre la fece risorgere, ma è chiaro che qui non si tratta di resurrezione, ma di guarigione. E poi Marco prosegue, la febbre la lasciò ed ella li serviva, si mise a servirli, preparare il pranzo, era ora di pranzo. Qual è il segno che Gesù ti ha toccato e ti ha guarito e ti ha fatto alzare? Il segno è se ti metti a servizio, se la tua vita è un dono per gli altri. Quello è il segno della vera guarigione. Ecco perché alla sera gli portano tutti gli ammalati, sì per farli guarire dalle loro malattie psichiche, fisiche e spirituali, glieli portano perché sentono che Gesù apre strade nuove, apre un modo nuovo di vedere le cose, un regno di Dio che inizia dove non solo la malattia fisica, ma soprattutto la malattia del cuore, quella indifferenza, quell'autocentratura su se stessi, l'egocentrismo, vengono spazzati via per diventare persone nuove. E poi? E poi come finisce questa giornata? Con la notte e con il mattino presto. Gesù si alza presto quando ancora era buio e fatti 50-100 metri sulle rive del lago già sei in mezzo al nulla, sei nella campagna, sei nel silenzio e la pregava perché Gesù decide le sue cose con il Padre. Le sue scelte, il suo programma, la sua modalità le riceve dal Padre ed è un insegnamento per ogni credente. La preghiera non è solo una devozione, è decidere con il Signore e mettere davanti al Signore le scelte della vita, il che cosa dobbiamo fare. E infatti lo vanno a cercare, tutti ti cercano, grande successo a Cafarnao, ma Gesù dice andiamocene via negli altri villaggi, devo andare anche là. Immaginiamo la faccia degli apostoli, ma come qui hai fatto così scalpore, hai ricevuto tanti consensi. Ma Gesù non cerca gli applausi, cerca la volontà di Dio ed è quello che dovremmo fare anche noi.